Nella terza domenica di Quaresima Ambrosiana, Televallasina trasmetterà la celebrazione eucaristica, senza la presenza del popolo, dalla chiesa parrocchiale San Carlo Borromeo all'Altopiano di Seveso. Televallasina raccoglie la richiesta di molti telespettatori cattolici di poter seguire la celebrazione eucaristica, osservando l'ordinanza nazionale sull'emergenza coronavirus. L'eucarestia, presieduta da Don Donato Vicini, sarà trasmessa sabato 14 marzo alle 18.30 e domenica 15 marzo alle 12.15 e alle 18.00. Inoltre, domenica 15 marzo alle 9, Televallasina trasmetterà la celebrazione eucaristica dalla chiesa parrocchiale di San Maurizio di Erba, presieduta da Don Ettore Dubini. Grazie a tutti.